L'eco del luto che ha colpito la famiglia Gianadda ha travalicato le Alpi del Vallese sino all'Ossola. Leonard Gianadda è morto ieri a seguito del tumore contro cui combatteva da tempo. Il mecenate svizzero si è spento all'età di 88 anni. Nonno originario piemontese, provincia di Biella, lui di nazionalità svizzera, era diventato grande amico dell'Ossola, tanto che nel maggio del 2013 il comune di Domodossola gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Era stato il sindaco Mariano Cattrini ad avvicinarlo. Amava l'arte e in onore del giovane fratello defunto ha dato vita alla fondazione Pier Gianadda, un museo di fama internazionale che ogni anno registra migliaia di visitatori. L'amicizia che lo legava al capoluogo solano è lunga un decennio ed è andata via via rafforzandosi. È stato un benefattore. Ha donato 50.000 franchi per la realizzazione della fontana di Piazza Madonna della Neve. In piena pandemia aveva donato 10.000 euro al comune domese per far fronte ai bisogni delle persone più povere. Oggi il sindaco Lucio Pizzi si è fatto interprete del lutto della città. Domodossola perde un grande amico e un generoso benefattore, ha scritto Pizzi. La cittadinanza onoraria era come segno di gratitudine per l'esemplare affezione e interessamento verso la nostra città, con cui ha condiviso un coinvolgente, elevato e continuo personale impegno civile nel promuovere, valorizzare, potenziare e tutelare il patrimonio artistico-culturale. Leonard Gianadda ha dimostrato in più occasioni amore verso la nostra città, con svariati interventi di ausilio nel campo culturale, attraverso la sua prestigiosa fondazione, aggiunge il sindaco Pizzi, che ricorda di aver avuto più volte l'onore di incontrare l'ingegner Gianadda, traendo sempre grande piacere dalla conoscenza di un uomo eccezionale e dal grande cuore. Il ricordo di Pizzi termina con una promessa, cercheremo di onorare la sua memoria con uno sguardo sempre più appassionato alla cultura che tanto spazio ha avuto nella vita avventurosa e straordinaria di Leonard Gianadda.